Pace bene cari fratelli e sorelle, ben trovati. Il Vangelo di questa domenica ci offre un itinerario di liberazione del cuore, tant'è che potremmo intitolarlo ciò che salva dal vuoto. Scandiamo tre passaggi di questo percorso. Primo, fare i conti con il vuoto. Gesù lungo il cammino avvisa ai suoi discepoli che a breve verrà consegnato nelle mani degli uomini che lo uccideranno, ma dopo tre giorni risorgerà. I discepoli non capiscono, o meglio non accettano, provano repulsione davanti all'annuncio della sofferenza, della morte, e tra l'altro si fermano lì, perdono di vista la risurrezione. Eccomi cari, è un primo livello, qui abbiamo un problema che tante volte tocca anche noi, cioè perdere di vista la meta. Se perdiamo di vista l'obiettivo che sia la meta ultima della nostra vita, che è il cielo, così come la meta delle nostre scelte, è chiaro che gli sforzi, le fatiche del cammino e le sofferenze diventano insostenibili. Ad esempio, se da credenti manca la prospettiva del cielo, tutto perde di valore, di significato. Viceversa, se siamo conquistati dall'amore di Dio e abbiamo Lui come via e meta, possiamo arrivare a dire con San Francesco d'Assisi tanto il bene che mi aspetto che ogni pena me diletto. E così anche nelle scelte quotidiane, anche le più semplici. Se ad esempio perdo di vista la meta, ad esempio un titolo di studio da raggiungere, un progetto da terminare, una dieta da fare, e mi soffermo alle fatiche che comporta raggiungere questa meta, è chiaro che la mia volontà sarà indebolita e che rischierò di lasciarmi schiacciare dalle fatiche del cammino. Ora, miei cari, il Signore sta annunciando ai Suoi discepoli che la via che Lui percorre è quella che porta alla vita piena, ma questa via passa attraverso le strettoie della sofferenza, del dono di sé. I discepoli, come vi dicevo, rifiutano questo annuncio perché ancora più profondamente fanno i conti con quella repulsione che avvertono davanti alla sofferenza, con quelle straneità, con la morte che sentono e che tutti noi avvertiamo. Ed ecco allora il secondo passaggio, cioè davanti a questa percezione del vuoto, davanti alla paura atavica della morte e della sofferenza, ecco le false soluzioni. Mentre Gesù parlava loro di tutto ciò, i discepoli discutevano di chi fosse tra di loro il più grande. Ecco la nostra mentalità umana. Come pensiamo di risolvere la nostra incompiutezza? Rincorrendo la grandezza, cercando di assicurarci la nostra identità, affermando noi stessi. Chi è il più grande? Chi è il più performante? Chi è quello che raggiunge obiettivi più alti? Tutti noi, miei cari, possiamo passare la vita rincorrendo questa grandezza mondana, inseguendo dietro le performance il nostro valore. Quante persone vivono in costante lotta con se stesse per dimostrare di valere, di essere capaci, di essere all'altezza, sbattendo in faccia agli altri i loro risultati? Quanti, purtroppo, sono mossi dal desiderio di vincere sempre, di affermare sempre se stessi a discapito degli altri, ossessionati dai propri risultati? Miei cari, che brutta gabbia, che misero modo per cercare di esorcizzare la miseria del nostro essere. In fondo, cosa si cela dietro tutto ciò? Un grido, a volte inconsapevole, inascoltato. Io esisto, io valgo. Ma ecco, come terzo passaggio, le vere soluzioni che il Signore ci offre. Egli, infatti, ci viene incontro con il suo amore per salvarci da tutto ciò. Non è da poco ricordare che solo in Lui possiamo scoprire il nostro vero valore. Solo davanti a Lui, morto e risorto per noi, capiamo davvero chi siamo e quanto valiamo. Solo davanti a Lui puoi scoprirti veramente e profondamente amato, da sempre e per sempre. Ecco allora, miei cari, che mentre i discepoli parlavano di tutte queste cose, Gesù consegna a loro e a noi due parole preziose che vengono a orientare verso la vita piena il nostro cuore. Anzitutto, con una frase lapidaria, Gesù afferma, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo e il servitore di tutti. Ecco la prima parola, servire. Vedete, nostro Signore non spegne il desiderio di grandezza, di pienezza, di vita che abbiamo dentro, ma lo orienta dalla parte giusta. Se tu vuoi essere il primo, se vuoi essere veramente grande, non devi metterti sopra gli altri, ma devi andare in coda, essere l'ultimo e servire tutti. Come ci ha ricordato Papa Francesco, il Signore rovescia i criteri che segnano che cosa conta davvero. Il valore di una persona non dipende più dal ruolo che ricopre, dal successo che ha, dal lavoro che svolge, dai soldi in banca. No, la vera grandezza e la riuscita agli occhi di Dio hanno un metro diverso, si misurano sul servizio, non quello che si ha, ma quello che si dà. Vuoi primeggiare? Servi, questa è la strada. E servire è fare come ha fatto Gesù, che ha riassunto la sua vita in una frase, non sono venuto per essere servito, ma per servire. Ed è proprio guardando a lui che capiamo dunque cosa significa servire. Vuol dire cura, attenzione, ascolto, annuncio della parola, tempo dedicato agli altri, amore gratuito, essere insomma dono per gli altri. E per inculcare tutto questo Gesù compie un gesto forte, significativo. Prese un fanciullo, se lo mise vicino e disse, chi accoglie questo fanciullo nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, poiché chi è il più piccolo tra di voi questo è il più grande. Ecco la seconda parola, accogliere. Attenti, il bambino nel Vangelo non simboleggia tanto l'innocenza quanto la piccolezza. Al tempo di Gesù i bambini avevano ben poco valore agli occhi degli adulti, non avevano diritti. Allora Gesù ci sta dicendo, chi accoglie questo piccolo nel mio nome accoglie me. Cioè chi sa accogliere il piccolo, che non è solo il bambino, ma è la persona fragile, ammalata, povera, straniera, in difficoltà, la persona più semplice. Chi lo accoglie con stima, per amore nel mio nome, sappia che sta accogliendo me. Il Signore dice lì ci sono io, ed è lì che a nostra volta veniamo accolti da lui e riceviamo nell'intimità del nostro cuore l'abbraccio di Dio. Ecco, servire e accogliere, soprattutto quanti hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire. Cari fratelli e sorelle, ecco allora la rivoluzione, ecco la guarigione del cuore, ecco dove sta la vera grandezza nel saper servire e accogliere, ponendoci verso tutti, non dall'alto verso il basso, ma alla pari. Anzi, come Gesù stesso ci ha insegnato, dal basso verso l'alto, come lui fece quando si inginocchiò davanti all'adulter, raccolta in flagrante adulterio, scrivendo sulla sabbia a terra, guardandola dal basso verso l'alto, per restituirle la sua dignità di donna, di persona, facendola sentire, nonostante tutto, amata. E se proprio, come ci ha ricordato il Papa, dovesse capitarci di guardare gli altri dall'alto verso il basso, questo ci è concesso solo in un caso, per aiutarli quando loro sono a terra. Allora domandiamoci, io che seguo Gesù mi interesso a chi è più trascurato? Oppure, un po' come i discepoli, vado in cerca di gratificazioni personali? Intendo la vita come una competizione per farmi spazio a discapito degli altri? Oppure credo che primeggiare significa davvero servire? E concretamente, dedico tempo, cure e attenzioni a qualche piccolo? A qualcuno che non ha i mezzi per contraccambiare? Mi occupo di qualcuno al di fuori dei miei amici e parenti? Mie cari, lasciamoci interpellare, lasciamoci ridirezionare perché possiamo camminare verso ciò che conta davvero, verso il cielo, verso la grandezza, quella vera che solo Dio ci può dare e che solo Dio ci sa insegnare. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!